Benvenuti su Dear Flower. Oggi facciamo il punto sull'M&A, in particolare l'M&A nel 2023 con riferimento alla pipeline di operazioni che KPMG, nell'ultimo studio, ha calcolato. Lo facciamo proprio con un partner della società che è Max Piani, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il 2022 si è chiuso abbastanza bene, non come il 2021, ovviamente che Menei ha visto un SPA particolare nel post-pandemia, e nel 2023 ci sono un po' di incognite, quindi c'è un po' di cautela, c'è chi è più ottimista. Restiamo un po' sul concreto, innanzitutto un po' la vostra view generale, qual è se ci sono dei trend in continuità tra lo scorso anno e quest'anno e poi concentriamoci sulla pipeline, perché alla fine bisogna vedere quella lì per capire e toccare con mano se effettivamente il 2023 sarà un buon anno. Intanto, qual è un po' il vostro sentiment? Grazie, buongiorno a tutti. Il sentiment è positivo, direi da stamattina più che positivo. Sono usciti i dati del Fondo Monetario che sono in rialzo, sia a livello globale sia per l'Italia, quindi viene cancellato il segno meno, quindi abbiamo un segno più per il 2023, queste sono le ultime attese del Fondo Monetario. Come diceva giustamente lei, il 2022 si è chiuso bene, 82 miliardi e oltre 1200 operazioni, quindi sì c'è stato un calo di un 20% circa, sia a livello globale sia a livello Italia, però come numero di operazioni, quindi come volume, numero di transazioni, il dato è molto molto positivo, 1200 operazioni che anzi per l'Italia è un dato record, quindi in controtendenza e questo viene confermato anche dalla pipeline che è sicuramente molto molto interessante, oltre 40 miliardi di operazioni su tantissimi settori. Ecco, quali sono le condizioni che possono giocare a favore delle M&A e quelle che possono invece fare da contrattare? Certo, grazie per la domanda, direi che appunto la maggiore incertezza era quella sulla crescita, i dati che stanno uscendo sia a livello di GDP sull'ultimo Q e come dicevo prima le aspettative per il 2023 sono migliori dell'attese, quindi stanno uscendo dei dati negli ultimi mesi, quindi da novembre in avanti che sono superiori in termini di crescita, il rialzo dei tassi dovrebbe gradualmente stabilizzarsi, quindi ci aspettiamo il picco del rialzo nel 2023, così come anche i dati sull'inflazione, in particolare sugli Stati Uniti sono in leggero calo, quindi questo fa ben sperare per il resto dell'anno. Quindi queste sono le due variabili macro più importanti, quindi crescita a livello di GDP e chiaramente anche i dati sull'inflazione e quella che sarà poi di conseguenza le politiche monetarie che auspicabilmente per la metà dell'anno dovrebbero tornare diciamo verso politiche più espansive o comunque meno restrittive. Esatto, questo dal punto di vista macro, poi se scendiamo sull'M&A, ad esempio rialzo i tassi ovviamente incide sul costo del financing, quindi questo inevitabilmente influenzerà l'attività M&A, in particolare grandi operazioni e quelle che riguardano i fondi di private equity, però dall'altro lato le imprese comunque devono muoversi un po' per trovare anche un po' la capacità di resistere a questi shock di mercato. Tornando appunto sulla pipeline, nel dettaglio magari delle operazioni che avete visto, ce ne sono diversi, c'è la Ducril, quali un po' caratteristiche vedete? Ci sono dei trend che sono ormai confermati e sono partiti già diverso tempo fa, per esempio uno dei trend appunto citava Autogrill Dufri che va nella direzione di queste grandi operazioni cross border, ricordiamo per esempio Essilor Luxottica, ricordiamo FCA PSA che ha visto la nascita di Stellantis, quindi quelle grandi operazioni cross border, operazioni cosiddette fra pari, fusione fra pari, transformational che portano queste aziende su un livello diciamo completamente diverso, quindi questo è uno dei grandi trend e Autogrill va in questa direzione, poi abbiamo sicuramente tante operazioni nel mondo delle infrastrutture, questo è già partito diciamo subito dopo la pandemia a fine 2020, si è confermato nel 2021 e 2022 esploso, tutto il mondo delle infrastrutture, reti di distribuzione, si va dall'autostrada alle telecomunicazioni, all'energia, chiaramente questo poi fa molto, diciamo anche molto trainato dal PNRR perché sappiamo che la transizione energetica o diciamo l'economia green è uno dei grandi temi. Infatti proprio questi sono dei temi, secondo voi il PNRR potrà incidere significativamente sul volume delle operazioni, sul valore, cioè nel senso avremo un riscontro tangibile poi quando andremo a vedere l'M&A nel 2023? Sì, assolutamente sì, in particolare su quelle che sono i grandi driver del PNRR, quindi la trasformazione energetica, andare verso un'economia più green, la digitalizzazione, quindi questo lo vediamo molto anche nel mondo dei servizi dove tutto il mondo dell'ITino, dell'information technology sta subendo una trasformazione, quindi assolutamente sì e questo l'abbiamo poi visto sia a livello macro ma anche a livello micro. Vabbè, quindi sicuramente elementi di cambiamento che spingeranno i vari attori a procedere con le aggregazioni oppure con la vendita di asset magari meno strategici. Esatto, questo è un altro tema molto importante, abbiamo visto che i grandi gruppi, per esempio possiamo citare Enel ma non solo, anche Exxon a livello internazionale stanno un po' rivedendo le loro politiche, il loro focus sia diciamo sui business magari più tradizionali e anche sulle geografie, quindi diciamo che i grandi gruppi ormai non parlano più solo di acquisizioni ma anche di dismissioni, dismissioni e acquisizioni viste in un'ottica di creazione di valore, quindi la dismissione che crea valore, cioè capire da parte del gruppo se io sono il best owner di questo asset oppure meglio cedolo ad altri e quindi creare valore per gli azionisti. Una razionalizzazione, un'ultima domanda, l'anno scorso abbiamo visto anche molte realtà italiane che sono state acquisitive all'estero che è una cosa di solito che non ci capita di vedere molto spesso, continuerà questo trend? Assolutamente, si è già partito, cito solo due casi, anzi tre casi di gennaio, Barilla, Ferrero, Ariston, ormai abbiamo tantissime aziende, alcune quotate, alcune non quotate, aziende familiari, quindi che sono ancora in mano alle famiglie, che ormai hanno nell'M&A proprio una parte core della loro strategia, quindi non più un'M&A opportunistico ma noi li chiamiamo acquirenti seriali perché ormai sono da diversi anni, potrei citarne altro, Zucchetti nel mondo dei servizi T, Campari, nel beverage, quindi tantissime aziende italiane che ormai utilizzano l'M&A in chiave strategica e continuativa. Assolutamente, è una notizia interessante, vedremo poi se continuerà. Grazie mille Max Piani, grazie a tutti.